Questo ultimo periodo dell'anno da Natale in poi sta mettendo in grossa difficoltà il mondo della ristorazione che ha visto cancellarsi in giro di pochi giorni centinaia e centinaia di prenotazioni. Si parla di circa l'80% di prenotazioni cancellate per il cennone di Capodanno. Questo è chiaramente dovuto all'aumento dei contagi, è dovuto soprattutto alle quarantene che tutti coloro che sono vicini a persone contagiate devono subire e anche il timore chiaramente di uscire e andare in luoghi pubblici dove ci sono persone dalle quali c'è il rischio di venire contagiati. Questo è un elemento molto negativo che sta subendo il mondo della ristorazione. Molti esercizi stanno pensando di tenere chiusi le loro attività. Molti lavoreranno verosimilmente con le consegne a domicilio, quindi aumenteranno il supporto attraverso gli strumenti tipo delivery e allo stesso tempo cercheranno di sviluppare una sorta di consegna a domicilio organizzata al proprio interno. Però indubbiamente questo sarà un periodo non facile per la ristorazione che è partito a Natale e speriamo si concluderà non oltre il Capodanno del 2021. Grazie